La Juventus ha avanzato una richiesta di informazioni all'Inter su Davide Frattesi. Infatti, alcune settimane fa, ho riferito che la Juventus stava anche considerando Frattesi come un'opzione per il centrocampo, e questo si è effettivamente confermato. La Juventus ha chiesto informazioni all'Inter sul giocatore, ma ha ricevuto una risposta negativa. L'Inter ha informato che non ha intenzione di vendere Frattesi. Così, la Juventus ha ora tolto il nome di Davide Frattesi dalla sua lista, almeno per quest'estate. Penso che ci siano giocatori più interessanti sul mercato rispetto a Frattesi. Ho già menzionato il nome del danese Matt O'Reilly, che, per me, sarebbe il nome perfetto per il nostro centrocampo. Grazie. Grazie. Grazie.